Musica Grosse quantità di amianto e barili riempiti con sostanze nocive sono state trovate dalla polizia albanese a bordo del traghetto di linea Brindisi-Valona, sostanze tossiche partite dall'Italia. Musica Avevano trasformato i giardini Colombo di Grottaglie in piazza dello spaccio di droga, operazione della polizia di Stato e della procura che incastrano tre giovanissimi e presunti pusher. Musica Ormai da anni il fiume Galeso di Taranto sporco ed inquinato, gli appelli di ambientalisti e cittadini, l'immobilismo di chi ha potere, non va meglio in centro tanti rifiuti gettati in strada. Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Canale 85, come avete ascoltato dai nostri titoli. Vi parliamo di grosse quantità di amianto e barili riempiti con sostanze nocive che sono state trovate dalla polizia albanese a bordo del traghetto di linea Brindisi-Valona, sostanze tossiche partite dall'Italia. I rifiuti tossici erano ammassati nella stiva di un traghetto di linea, quello che trasporta quotidianamente passeggeri e mezzi da Brindisi al porto albanese di Valona. Grandi quantità di amianto e misteriosi bidoni, il cui contenuto dovrà essere accertato. La scoperta è stata fatta dalla polizia albanese a bordo della nave Sendemian, che batte bandiera Panamense e che era giunta a Valona alle 6 del mattino di giovedì. Sei persone, tutte albanesi, tra cui anche il comandante della nave, sono state arrestate. In manette anche gli amministratori di due società albanesi. La Delfini 1, che risulta essere l'azienda che ha ordinato il carico, registrato come prodotti chimici per pulizia, e la Cornusi, che si occupa della raccolta dei rifiuti e che avrebbe sfruttato l'accesso al porto per ritirare il carico, in quanto gestiva anche lo smaltimento dei rifiuti nell'area portuale. Le due società avrebbero effettuato in precedenza almeno 15 importazioni dall'Italia. Ancora da chiarire, invece, il contenuto dei barili. L'inchiesta, denominata EMIANT, è finalizzata, si legge nella nota ufficiale degli inquirenti, a impedire l'introduzione di una quantità significativa di rifiuti pericolosi dannosi per l'ambiente e la salute umana sul territorio albanese ed è coordinata dalla Procura di Valona e dal Ministero dell'Ambiente Albanese. La Capitaneria di Porto di Brindisi, informata dell'accaduto, ha avviato indagini per accertare le modalità con cui il carico era stato stivato sul traghetto e se la documentazione fornita al momento dell'imbarco sia corrispondente ai materiali sequestrati dalla Polizia di Valona. Interrogato anche l'armatore Brindisino, che gestisce il traghetto. Nel frattempo il Sendemian, che ha 48 anni di vita, è ormeggiato a disposizione dell'autorità giudiziaria alla banchina passeggeri di Valona. La scoperta delle forze dell'ordine albanesi pone dei legittimi interrogativi sui controlli di frontiera in Italia. La storia ci insegna che i traffici di rifiuti sono spesso associati alle dinamiche più infime della malavita nazionale. Avere il sospetto che quanto sia accaduto nel porto di Brindisi possa anche lontanamente farci supporre che i loschi affari siano ritornati in una terra che ormai era stata purificata dalla presenza pesante delle bionde negli anni 90 spaventa e non poco. Ci pare fisiologico pensarlo alla luce del fatto che, date alla mano eventualmente confutabili, dal porto della città adriatica possa essere partito indisturbato un carico di rifiuti tossici sul traghetto Sendemian diretto a Valona. Il che la dice lunga, ma davvero, su come possa considerarsi oggi l'attuale sistema di sicurezza all'interno dell'Unione Europea. La domanda, diceva l'indimenticato Lubrano, nasce spontanea. Chi doveva controllare non lo ha fatto, se non altro in maniera certosina. Ci lascerete passare anche la riflessione sul fatto che quello di Brindisi è un porto molto attenzionato da chi è proposto a garantire la sicurezza pubblica e dei traffici in mare, peraltro con risultati illusinghieri sul campo. Cosa dunque non ha funzionato nel perfetto ingranaggio dei certosini controlli? Come mai merci di tale pericolosità, per esempio, viaggiavano insieme ai passeggeri? Interrogativi illegittimi, solo in considerazione delle informazioni di cui, al momento, siamo in possesso. Per il resto, riponiamo completa fiducia nel lavoro di chi, quotidianamente, è chiamato a garantire la nostra sicurezza. Lo stesso livello di sicurezza che in genere viene assicurato, per esempio, quando ci si adopera per l'arrivo e la sosta di immigrati in terra di Puglia. Droga nei giardini pubblici tra i bambini che giocavano a Grottaglie e la polizia di Stato ha sgominato una presunta banda di giovani spacciatori. La sostanza stupefacente sarebbe stata sceduta anche a minori di 13 anni. All'alba il blitz tra le persone arrestate. Avrebbero spacciato droga ai minori nella centralissima villetta comunale di Grottaglie, dinanzi ai bambini che giocavano. In prevalenza venivano cedute dosi di hashish e marijuana. La polizia ha sgominato una presunta banda, la cui mente era un uomo agli arresti domiciliari. I clienti erano giovanissimi assuntori, alcuni addirittura di 13 anni. L'operazione Colombo prende il nome dal giardino pubblico trasformato in piazza di spaccio. All'alba i tre arresti degli uomini del commissariato di Grottaglie, l'accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso anche a minorenni. Le immagini registrate dagli inquirenti hanno accelerato le indagini. Giovanissimi i tre arrestati, di età compresa tra i 23 e i 25 anni, due sono ai domiciliari. La presuntamente dell'organizzazione è finita in carcere. I tre arrestati avevano messo in piedi un'organizzazione che aveva come obiettivo quello di rifornire i giovanissimi della città di Grottaglie. Nel corso dell'attività abbiamo identificato tra gli assuntori di sostanze stupefacenti ragazzi di un'età addirittura di 13 anni, 14 anni. Comunque la grande maggioranza degli acquirenti erano soggetti minori. E' proprio questo uno dei fenomeni ovviamente più allarmanti nell'ultimo periodo di riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti. E quindi gli arrestati avevano messo in piedi questa organizzazione attraverso la quale cedevano le sostanze stupefacenti ai giovanissimi in piccole dosi. E il tutto avveniva all'interno di un parco pubblico, il Giardini Colombo, a pochi metri di distanza da bambini e mamme che erano lì a sostare in questo parco pubblico. E nonostante la presenza di bambini, molti degli episodi di spaccio che abbiamo documentato e registrato attraverso telecamere e filmati, avvenivano proprio a pochissimi metri di distanza dai minori. Cioè nonostante gli arrestati non avevano alcuna remora a proseguire nelle loro illecite attività. Grazie. Torniamo a parlare della vicenda ArcelorMittal di Taranto perché il primo cittadino della città dei Due Mari, Rinaldo Melucci, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La città è estremata, afferma il primo cittadino. Necessario cambiare le condizioni o si lavori solo per la chiusura dell'ex silva? Sulla vicenda ArcelorMittal, decisa presa di posizione del sindaco di Taranto Melucci, parla di una città estremata e della necessità che cambino radicalmente le condizioni oppure si lavori per chiudere l'ex silva. Si attendono risorse per le bonifiche, dice, ma anche misure per la salvaguardia dei posti di lavoro e nuove tecnologie per una produzione di acciaio compatibile con la vita umana. Ma ad oggi nessuno slancio sincero per Taranto, anzi, prosegue Melucci, si tenta di ostacolare la richiesta di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Sembra evidente per il sindaco che non si vogliano concedere nel dibattito margini ai dati sulla valutazione del danno sanitario. Con questi presupposti, aggiunge Rinaldo Melucci, come possiamo aspettarci che ci saranno aperture su un accordo di programma che preveda la chiusura delle aree a caldo dello stabilimento come è avvenuto a Genova? Pertanto il sindaco si rivolge alla presidente del Consiglio Conte, accettiamo una volta per tutte, dice che non sarà Arcelor Mittal a salvare e riconvertire l'ilva di Taranto, stiamo facendo fatica, inutile su tutti i tavoli istituzionali. Taranto è stanca, conclude il primo cittadino, non vediamo più prospettive per il modello ilva di Arcelor Mittal, a queste condizioni siamo interessati soltanto alla chiusura. Diversi governi e quasi tre anni di lavoro intenso non hanno prodotto progressi, degni di nota, così il sindaco di Taranto chiede al presidente Conte di interrompere subito ogni dialogo. Noi, afferma, agiremo già da oggi di conseguenza. Sospero di sollievo per i lavoratori del porto di Taranto a Palazzo di Città, l'onorevole Ubaldo Pagano ed il consigliere Gianni Azzano hanno incontrato gli ex dipendenti TCT per annunciare che con il decreto 1000 proroghe è stata rifinanziata l'Agenzia dei Lavoratori Portuali con 11 milioni di euro. 11 milioni di euro direttamente dal governo, rifinanziata l'Agenzia Portuale per il sostegno al reddito dei circa 500 ex lavoratori portuali della TCT. La notizia viene data a Taranto direttamente dall'onorevole Ubaldo Pagano, sottoscrittore dell'emendamento approvato nel decreto 1000 proroghe. Scongiurato così il rischio licenziamento per questi lavoratori per i quali si sono esaurite sia la cassa integrazione che la mobilità. Ora con l'arrivo di Hillport nello scalo ionico si confida nella ripresa delle attività portuali e quindi il conseguente graduale rientro al lavoro dei circa 500 lavoratori. A breve si ultimerà anche la scrittura del cantiere Taranto, il decreto speciale che prevede l'uscita dalla monocultura del carbone e dell'acciaio che qui a Taranto ha vissuto di vicende che tutti quanti noi conosciamo e sul quale tutto il governo, tutta la compagine governativa è chiamata a una sfida per proiettare la città di Taranto verso il futuro. Già la prossima settimana il sindaco è impegnato in un tour in tutti i ministeri per affinare ogni questione. Con il presidente dell'autorità portuale siamo in costante contatto perché il piano strategico del porto che lui ha presentato al ministro De Micheli durante l'ultima visita possa diventare sempre più velocemente una concreta possibilità. Il modello porto potrebbe essere utilizzato anche per risolvere altre vertenze del territorio? Sì, il modello porto è il modello che ha funzionato più di tutti perché ha visto un dialogo continuo tra istituzioni, lavoratori e sindacati ottenendo un primo risultato quello di tre anni fa con l'istituzione dell'agenzia che ricordo tutti è stata una proposta che è partita grazie ai sindacati anche dal territorio, supportata naturalmente dalle istituzioni e che quindi ha evitato più di 500 famiglie di andare a casa e ad avere un reddito in questi anni ed oggi ha avuto un ulteriore risultato che è quello comunque del rifinanziamento dell'agenzia all'interno del mille proroghe. Il capo del DAP a Lecce mentre i penitenziari pugliesi scoppiano, questa la polemica dei sindacati che hanno protestato dinanzi a Borgo San Nicola. A distanza di più di un anno ancora una visita in Puglia del capo delle carceri Basentini questa volta presso il penitenziario di Lecce dove riunirà i vertici delle carceri pugliesi e lucane. L'ultima visita fu al carcere di Bari nel novembre 2018 e proprio in quell'occasione i sindacati organizzarono una protesta davanti al penitenziario del capoluogo di Regione che denunciava le incessanti aggressioni ai poliziotti da parte dei detenuti. Il grave affollamento dei detenuti che sfiorava il 70% in Regione con alcuni casi come Taranto che superava il 100% contro un modesto 20% di sovraffollamento a livello nazionale. I sindacati lamentavano anche in quell'occasione la diminuzione di circa 600 poliziotti poiché nel 2001 l'organico dei poliziotti era a 2.530 e nel 2017 passò a 1.935 mentre la popolazione detenuta dai 2.300 posti regolamentari è passata ad oltre 3.850. Insomma oltre 1.500 detenuti in più e 600 agenti in meno. Il dottor Basentini quando è venuto l'anno scorso a maggio a Bari ci aveva incontrato a Bari aveva promesso, aveva fatto tante di quelle promesse una di quelle promesse è uno sfolamento dalla Puglia dei 600 detenuti che non ha mai mantenuto dopo doveva rivedere le piante organiche sì, sono state sedute al tavolo della trattativa a Roma però non hanno ancora definito l'organico. In quell'occasione quindi il presidente Basentini promise ai manifestanti che avrebbe posto rimedio poiché anche lui si rendeva conto della disastrosa situazione in cui versavano i penitenziari pugliesi ma secondo i sindacati così non è stato. Chiediamo al dottor Basentini di prendere veramente in considerazione l'emergenza che c'è in Puglia ed in particolare quella che c'è a Lecce perché a Lecce ci sono 660 posti regolamentari circa e i detenuti presenti sono 1100 quindi voglio dire la carenza di organico si sente quanto si sente il sopraffollamento delle sezioni detentive. Ci spostiamo ora a Brindisi per parlarvi di una nota dei lavoratori e abaco di Brindisi che si definiscono come uniche vere vittime del predisesto comunale. Un passo indietro rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale di realizzare un progetto di parziale internalizzazione dei servizi relativi ai tributi locali è questo quello che chiedono i lavoratori dipendenti della società di riscossione ed accertamento dei tributi comunali oggi abaco e SPA che esprimono il loro forte disappunto per questo progetto sottolineando come sicuro effetto quello della perdita del posto di lavoro di un numero rilevante di dipendenti del settore. Ad oggi secondo i lavoratori non è stato realizzato né si prevede di realizzare a breve alcuno dei tagli preannunciati ovvero nuove entrate che costituiscono l'unica garanzia capace di mantenere in piedi il riequilibrio previsto dalla normativa culente e aderito con l'approvazione in consiglio comunale del 9 gennaio 2020 rimarcando che dopo il giusto dietrofront rispetto agli aumenti deliberati per i ticket mensa ed asilo nido nonché nell'ipotesi iniziale di terzializzazione dei nidi comunali e venendo meno le ingenti somme previste in entrata dalle vendite del patrimonio l'unica certezza deliberata che rimane in campo è proprio quella della parziale internalizzazione dei servizi di discussione. Di fronte a questa amara constatazione i lavoratori si dicono convinti che la strenua difesa di tutti i posti di lavoro non sia dovuta a un mero attaccamento seppur legittimo al proprio orticello ma la difesa del proprio posto di lavoro che è sempre legittima in quanto costituzionalmente garantita. Con un ultimo appello per l'amministrazione comunale è chiamata a creare nuova occupazione e non certo a tagliare, come sottolineano i lavoratori Abaco quella esistente, consolidata ed efficiente. Il ministro Teresa Bellanova, ospite alla BTM porta il supporto del governo agli imprenditori e lancia frecciatine al vetriolo al governatore di Puglia, Michele Emiliano. Il ministro Teresa Bellanova ha voluto portare il proprio supporto agli imprenditori presenti alla BTM a Lecce ed ospite del padiglione Midaf del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha assicurato il sostegno del governo alle categorie in difficoltà. Non si è sottratta alla Bellanova le domande inerenti agli attriti regionali e non sono mancate le frecciatine al vetriolo al presidente Emiliano. Lei esclude o no la sua candidatura alla regione? In questo momento faccio il ministro dell'agricoltura e credo di dovermi occupare con molto rigore delle questioni che mi sono state delegate perché ho giurato sulla Costituzione. Nel momento in cui si tratterà di affrontare con determinazione questa problematica l'affronteremo, ma come ho detto in altre occasioni il punto non è quello che faccio io il punto è che cosa si vuole fare di questa regione. Questa è una regione che non ha dato prova negli ultimi cinque anni di buona amministrazione. Non l'ha dato nel settore del quale io mi occupo perché noi continuiamo ad avere 142 milioni di euro che rischiano di essere ridati all'Europa perché non si è stati in grado di impegnarli. Non ha dato una buona prova nel settore della sanità non ha dato una buona prova nel dare un riconoscimento alle persone che hanno competenza. Chi per cinque anni ha sommato il ruolo di Presidente della Regione di Assessore alla Sanità e a un certo punto anche di Assessore all'Agricoltura mi pare che non può criticare gli altri dicendo uomini soli al comando e ancora meno può dire di avere una pratica inclusiva nella sua azione di governo. E continuiamo ancora a parlare di regionali perché il senatore Vitali ai nostri microfoni dice a regionali occorre un candidato presidente che unisca. Dopo Salvini a Lecce che non ha sciolto la riserva a soffitto nel centro-destra torna ad animarsi il dibattito e questa volta a tornare sull'argomento il senatore Luigi Vitali. Il senatore di Cambiamo chiede un'accelerata e soprattutto che il dibattito non venga monopolizzato sui tavoli romani ma tenga presenza le istanze del territorio. La classe dirigente pugliese non ha dimostrato senso di responsabilità non ha parlato la stessa lingua e ormai la partita è passata sul tavolo nazionale. Peccato perché io credo che sul territorio c'erano tutte le condizioni per trovare un candidato unitario per vincere perché il governo di centro-sinistra non è stato un governo che ha fatto le cose per bene quindi c'erano tutte le condizioni per poter portare alla vittoria il centro-destra se non facciamo gli errori che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni quando abbiamo fatto prevalere contrapposizioni, veti, reciproci e abbiamo perso perché ci siamo spaccati. L'unico nome al momento lanciato sul tavolo di coalizione è quello di Fitto. Credo che prima di parlare di nomi si deve parlare dell'unità del centro-destra che è essenziale qualunque nome riesca a tenere insieme tutto il centro-destra io credo che in queste condizioni potrà vincere le elezioni regionali quindi adesso non mi faccio esprimere giudizi Fitto è stato già presidente della regione è stato ministro europarlamentare parlamentare non è un problema di Fitto o di un altro il problema più importante è che il centro-destra rimanga unito e che ci sia un candidato che lo tenga insieme questa è la verità poi il vantaggio, la priorità e l'unità e poi viene il candidato poi viene la squadra poi viene il programma Federica De Benedetto ha detto che per cambiare Fitto potrebbe andare bene essere un ottimo candidato Io credo che cambiamo in questa fase non abbia un potere decisionale la partita è sul tavolo nazionale credo che appartenga a Berlusconi a Salvini e a Lameloni l'onere, la responsabilità e l'onore a questo punto di scegliere il candidato quindi per noi qualunque candidato vada bene l'importante è che il centro-destra scenda unito e l'avvocato di Martina Franca Gianfranco Chiarelli ex direzione Italia è transitato nella Lega Salvini dove è appena stato nominato vice coordinatore regionale il rapido consolidamento della Lega in Puglia si legge in una nota del partito ha determinato l'avvio di una nuova fase sul piano dell'organizzazione politico-territoriale in quest'ottica l'onorevole Luigi Deramo nei giorni scorsi ha proceduto alla nomina dell'onorevole Gianfranco Chiarelli quale vice coordinatore regionale l'onorevole Chiarelli affermato a professionista dicevamo già componente dell'esecutivo regionale ed incaricato del programma elettorale presenta un curriculum politico di particolare spessore maturato in diversi importanti ruoli prima in regione e poi in Parlamento ci spostiamo a Taranto i praticanti avvocati potranno formarsi presso il comune della città bimare questa mattina la presentazione di un protocollo d'intesa a Taranto i praticanti avvocati potranno svolgere il tirocino professionale presso l'ufficio legale del comune un periodo di formazione che sarà così riconosciuto ai fini della pratica forense è possibile grazie ad un protocollo innovativo a presentarlo nelle sale del municipio è stato il presidente dell'ordine degli avvocati locale fedele Moretti e il vice sindaco Paolo Castronovi che tra le altre deleghe si occupa anche di formazione professionale è il modo con cui l'amministrazione vuole coinvolgere i professionisti locali nella quotidianità dell'amministrazione comunale avremo un gruppo di giovani laureati in giurisprudenza che verranno qui nelle nostre sedi a svolgere la loro pratica forense quindi un modo per avvicinarli anche alla macchina amministrativa e poter condividere con noi le difficoltà quotidiane che ha l'amministrazione naturalmente il comune per ognuno di loro nominerà un tutor che seguirà tutto lo svolgimento di quest'anno sì come previsto dalla norma ciascuno di loro avrà un tutor che è un professionista iscritto all'ordine che seguirà il loro percorso di formazione Il protocollo che noi sappiamo al Consiglio dell'Ordine è già attivo credo che le domande siano già state proposte il comune di Taranto si è fatto parte dirigente per ovviamente analizzare e fare il primo screening di tutte le domande che sono arrivate e successivamente verranno sottoposti al Consiglio dell'Ordine i nostri giovani colleghi praticanti che vogliono e che hanno deciso di svolgere il tirocinio presso gli uffici legali del comune di Taranto E questa parte di telegiornale termina qui prima di una breve pausa pubblicitaria e poi a seguire le notizie di sport abbiamo in collegamento telefonico il collega Davide Cucinelli perché nel brindisi calcio pare ci sia quello che ormai è stato definito un po' di caos Davide buonasera e bentrovato qual è dunque la situazione? Diciamo che al caos si è giunto caos in queste ore perché nel primo pomeriggio c'era stata una nota da parte dei calciatori del brindisi in cui mettevano in evidenza alcune situazioni insopportabili per loro per andare avanti e gestire anche scendere in campo per le partite e chiedevano davano un vero e proprio ultimatum alla società del brindisi risposte nel giro di 24 ore ovviamente questo ha creato tanto scalpore perché i giocatori di fatto avevano minacciato di non scendere in campo contro il nardo domenica pomeriggio c'è stata anche una nota da parte della tifoseria che domani mattina alle ore 11 sarà presso il precampo per incontrare la squadra in serata è arrivato un comunicato però dalla parte della società brindisina in cui veniva sollevato dall'incarico l'addetto stampa del brindisi Eligio Galeone e soprattutto veniva diffidata la squadra a non trovare scuse così recitava testualmente il comunicato in vista del match di domenica spiegando che gli stipendi erano stati pagati che non c'erano stati problemi il passaggio di quote previsto nel corso della settimana era stato rinviato alla giornata di domenica mattina sicuramente un giorno anomalo per poter effettuare un passaggio di quote quindi incertezza su incertezza i tifosi come dicevamo domenica saranno allo stadio nella nota hanno chiesto anche un intervento per propria competenza da parte dell'amministrazione comunale al sindaco Rossi e all'assessore Pinto per evitare un nuovo fallimento domani ci sarà questo appuntamento al quale saremo ovviamente presenti anche noi e seguiremo da vicino per capire gli sviluppi e capire anche cosa deciderà la squadra e se deciderà di rispondere alla nota della società in questo momento tutti contro tutti un momento di incertezza profonda non solo per il match di domenica ma per il futuro del calcio a brindisi grazie dunque Davide un momento di incertezza profonda dice il collega non solo per il match di domenica prossima ma per il futuro del brindisi calcio naturalmente avete ascoltato saremo domattina seguiremo la vicenda naturalmente continueremo ad aggiornarvi sulla questione ed ora è davvero tutto sono le 19.53 minuti breve pausa pubblicitaria e a seguire come dicevo le notizie sportive buon proseguimento di serata l'informazione in rigorosa diretta con le ultimissime su canale 85 torna alle 22.30 buon proseguimento di serata